5 e oltre 50 quando è pronto è pronto, si è ritornato ok? sono gli ultimi due? abbiamo finito? non ci sono niente sono gli ultimi due? cioè per me ti piaceva il motore un applauso a Massimiliano con questa special poi lo vedremo oggi pomeriggio che ci sono le accelerazioni sullo sterlato intorno alle 15 e 30 ci sono alle 15 e 30 la stessa cosa anziché sull'asfalto un applauso vediamo quest'altro ce ne abbiamo ma servono pure gli altri moti anche qui due moto d'epoca di Suzuki Vito Vito di Pierro 1900 81 81 1900 82 ok due sorelle buono sei pronta? la macchina l'aspettino come un gruppo ci sono le riu'asfalto ai chiuso del carattà a 6 9 che 3 3 3 3 4 3 5 aspettiamo che rientrino gli altri